Ciao a tutti da Streamardware.com, quest'oggi andiamo a fare un breve video unboxing della nuova Asus RX 480 Strix Edition. Partiamo dall'analisi della confezione dove possiamo vedere nella parte frontale una grande immagine del prodotto accompagnata dal nome del prodotto stesso. Inoltre più in basso troviamo alcune importanti tecnologie supportate da questa GPU, ovvero la tecnologia VR, quindi per la realtà virtuale, la tecnologia HDR, la tecnologia AMD FreeSync e inoltre questa scheda video è ottimizzata per la DirectX 12. Altre due importanti caratteristiche di questo prodotto sono la tecnologia Aura, proprietaria di Asus, per cambiare la colorazione dei led presenti sulla scheda video e gli 8 GB di memoria RAM GDDR5 che ripropongono questa scheda video di fascia medio alta. Nella parte posteriore della confezione invece troviamo alcune di taskalie sulle principali caratteristiche del prodotto, più in basso le specifiche tecniche, le uscite video del prodotto stesso e inoltre in alto vengono riportati 3 anni di garanzia che accompagnano quasi tutte le schede video di Asus. Apriamo la confezione. Al di sotto del cartone esterno troviamo un'ulteriore scatola dove al centro abbiamo stampato il logo Strix. Aprendo anche quest'ultima confezione troviamo a stavolta un'altro piccolo box. Al cui interno è riposto il bundle che accompagna il prodotto. Il bundle è quello tipico di Asus per le schede video di fascia medio alta. Infatti troviamo manuali di installazione rapida, un coupon per un videogioco online, quattro fascette in velcro e il cd driver. Infine prendiamo la scheda video. Eccola qui. Allora come possiamo dire la scheda video richiama il tipico design della serie Strix di Asus. Infatti la colorazione è completamente nera all black e nella parte diciamo frontale troviamo tre grandi ventole da 90 mm di diametro con un design tipico di Asus che secondo la casa dovrebbe ridurre le turbulenze e anche la ruomosità quando la scheda video è in funzione. Questi ventoli vanno a raffreddare il dissipatore sottostante che vi ho aggiunto a sua volta con delle heat pipes in rame nichelate che servono per trasportare più velocemente il calore dalla GPU al radiatore in alluminio. Nella parte superiore invece troviamo il prolungamento della scocca in plastica nera con il logo Republic of Gamers che si illuminerà quando la scheda video sarà in funzione e potremo cambiare il colore attraverso il software proprietario di Asus. Vediamo le tantissime lamelle in alluminio del dissipatore. Inoltre possiamo vedere l'unico connettore di alimentazione presente su questa scheda video da 8 pin con annessi led di stato un po' incastonati al di sotto del backplate in alluminio. Infatti proprio nella parte posteriore troviamo un generoso backplate in alluminio spazzolato di colore nero con il logo ROG in basso rilievo che si illuminerà anche questo quando la scheda video sarà in funzione. Inoltre troviamo le quattro viti che tengono insieme la scheda video e al di sopra di una di esse troviamo un bollino che una volta rotto farà avvenire meno la garanzia su questo prodotto. Infatti non possiamo cambiare il dissipatore oppure cambiare semplicemente la pasta termica senza perdere la garanzia con questo prodotto Asus. Inoltre notiamo che il PCB è leggermente più alto rispetto allo standard di circa 1,5-2 cm quindi prestate attenzione quando acquistate questa scheda video e vedete se è possibile montarla all'interno del vostro case soprattutto se avete un case di piccole dimensioni. Inoltre notiamo l'assenza del connettore crossfire in quanto le nuove schede video AMD sfruttano la connessione in parallelo tramite il PC Express. Più in basso infatti troviamo il PC Express 3.0 mentre nella parte posteriore notiamo che cosa? Due connettori 4 pin PWM che ci consentiranno di connettere le ventole di questa scheda video al nostro controller principale delle ventole installato sul nostro case ovviamente se lo possediamo e se lo abbiamo installato sul nostro case altrimenti le ventole funzioneranno autonomamente con il software proprietario di Asus. Per quanto riguarda le uscite video abbiamo due display port, due HDMI e infine una DVI e infine troviamo anche dei piccoli fori per far passare il calore all'esterno del case. Questa scheda video la RX 480 è dotata di 2304 stream processors che nella versione di Asus, la Strix, sono cloccati a 1286 MHz nella modalità overclock quindi OC mode, mentre nella modalità standard sono cloccati a 1266 MHz. Inoltre questa scheda video come abbiamo già detto è equipaggiata con 8GB di RAM e GDDR5 che assicurano delle ottime prestazioni in Full HD ma anche in 2K. Quindi una scheda video davvero interessante e possiamo dire che questo è un unboxing è davvero tutto, vi rimandiamo alla recensione scritta che troverete sul nostro sito web www.istreamhardware.com Dallo staff di Strimardo un saluto e al prossimo video unboxing. Ciao! Ciao!